Non è vero che contano solo le competenze tecniche, nel mondo del lavoro è necessario saper inseguire anche i propri sogni. Mercoledì con Michel Murabito vedremo insieme come trovare il lavoro giusto in un mare di offerte e come vivere il primo periodo in azienda tra nuovi ritmi, attività e responsabilità. E questo vale anche in ambito scientifico, ad esempio per la figura del consulente ingegneristico che sarà centrale giovedì durante il webinar con Daniel Levis, alumnus DSP. Ti racconteremo quale percorso è particolarmente indicato per coniugare ingegneria e management e inseguire questa carriera provando a realizzare i tuoi obiettivi. A proposito di consulenza, mercoledì potrai partecipare a un recruiting day con la prima consulting firm in Italia per volume di affari e concorrere per una delle 40 posizioni tra stage, apprendistato e inserimento a tempo indeterminato. Se sei una ragazza sappi che c'è un'opportunità formativa e professionale riservata a te, parlo della Microsoft Academy for Girls. In occasione della festa della donna il team di Avanad ti presenterà i dettagli di questo percorso retribuito che ti permetterà di sviluppare le tue abilità in campo informatico. Mi raccomando, ti aspetto!